E se Mario Giordano fosse il cattivo di un film horror? DONATO! Momento, tutto è nato quando sul mio canale lanciai un torneo per eleggere il personaggio della tv spazzatura più adatto a divenire il villain di una pellicola dell'orrore. Provenza ed è anche conduttori con trasmissioni utili come Angela, ma dopo una battaglia tra 16 gloriosi che hanno accumulato in totale migliaia di voti, il vincitore era uno. Mario Giordano. Sono io pazzo? Sono pazzo io? Pianti caduti si è eletto il genere, comprensibilmente ha vinto lo slasher, quel tipo di film dove un macellaio fa fuori orde di teenagers. Quindi sulla base di Ghostface da scrimo ho inserito il buon Marione e visto il tenore delle sue trasmissioni ho deciso di rendere colore e cappuccio coerenti con l'indirizzo politico. Scherza eh, si scherza ovviamente, sto scherzando. Non lo voglio festeggiare! Alle mani la famigerata mazza per eliminare l'affatto italica tradizione di Halloween, nell'altra il sacro rosario della causa gesucristica, con la croce stampata sul petto per assicurarsi l'approvazione divina e conservatrice, tremate per... Non lo festeggio. Scherza signor giudice, mi socio da me medesimo assolutamente, non vorrei mai...